carissimi pace pace del signore buona giornata a tutti quanti voi dio vi benedica in questo nuovo giorno che egli ci concede oggi 30 dicembre 7 del mattino leggiamo nell'epistola agli efesini al capitolo 2 il verso 1 e il verso 2 dio ha vivificato anche voi voi che eravate morti nelle vostre colpe nei vostri peccati ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo seguendo il principe della potenza dell'aria di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli morti e ora vivificati e questa la dichiarazione che ci viene fatta da parte dell'apostolo paolo in questi versi naturalmente gli parla della vita spirituale ed egli parla della condizione di coloro che vivono lontano da dio ribelli quindi e della condizione di coloro che invece vivono vicino al signore anzi sono in cristo i vivificati eravamo morti perché il salario del peccato è la morte perché a causa dei nostri peccati noi eravamo separati da dio e non potevamo avere comunione con lui eravamo morti anche se ci muovevamo fisicamente camminavamo andavamo al lavoro andavamo a studiare a scuola svolgevamo le nostre attività quotidiane ma nello spirito eravamo morti non c'era vita non c'era vita perché il principe della vita non viveva dentro i nostri cuori ma anzi regnava colui che è il principe delle tenebre colui che ha portato tramite la seduzione il peccato che poi aveva damo hanno compiuto la morte in questo mondo eravamo morti non dobbiamo mai dimenticarci di questa condizione terribile nella quale viviamo quando siamo lontani da dio eravamo morti perché un tempo andavamo dietro le tradizioni di questo mondo e seguivamo i principi etici e morali di questo mondo eravamo morti perché non conoscevamo la parola di dio e vivevamo ognuno secondo i propri istinti secondo i propri pensieri seguendo magari le indicazioni di qualche uomo che avevamo eletto come guida della nostra vita eravamo morti morti perché nella nostra vita c'era soltanto buio ma dio si è lodato perché un giorno qualcuno ci ha parlato del signore un giorno qualcuno ci ha fatto vedere che c'è luce oltre alle tenebre che c'è la purezza oltre alla contaminazione di questo mondo qualcuno ci ha parlato di colui che è venuto su questa terra ha dato la sua vita per la salvezza di ogni uomo colui che fece questo era la luce del mondo e cristo gesù il figlio di dio colui che è la seconda persona della trinità ma che un giorno ha preso un corpo di carne ed ha abitato in mezzo a noi come un uomo qualsiasi vivendo però una vita esemplare perché egli è stato tentato sì ma non ha mai trasgredito la legge di dio la volontà di dio è proprio per questo egli non è mai morto anzi egli è sempre stato e sarà in eterno la vita gesù lo disse io sono la via la verità e la vita e per quelli che credono in lui e che affidano la propria vita a lui e che camminano secondo i suoi insegnamenti per quelli c'è vita ecco perché paolo dice cristo vi ha vivificati perché prima eravamo morti perché prima seguivamo l'andazzo di questo mondo ma ora seguiamo invece colui che è la vita vale a dire gesù e non dobbiamo mai dimenticarci che noi possiamo dire di essere vivi solo quando noi camminiamo in cristo perché quella è la vera vita gesù l'ha detto io sono venuto affinché voi avviate vita e vita in abbondanza sì il nostro spirito è stato risvegliato abbiamo cominciato a vedere le brutture di questo mondo e del peccato che regna in questo mondo e la bellezza invece della grazia della parola di dio dei comandamenti di dio abbiamo cominciato a camminare lungo quella via quante benedizioni abbiamo goduto quanti doni gloriosi fin anche la pienezza dello spirito santo sì dio ci ha vivificati ma non lasciamoci di nuovo attrarre da questo mondo per tornare di nuovo nelle tenebre per tornare a provare la morte dentro i nostri cuori no cari fratelli e sorelle viviamo viviamo in cristo quella è la vera vita anzi quella è l'unica vita sì dio ci ha vivificati per mezzo di cristo gesù ed ora vogliamo essere a nostra volta una luce in questo mondo per mezzo della nostra testimonianza pratica vogliamo far vedere a quanti ci circondano che si può vivere veramente che si può vivere una vita degna di questo nome che si può avere la gioia nel cuore la luce negli occhi che si può avere tutto quello che l'anima di una persona può desiderare che tutto questo è frutto della vita che cristo trasmette a quelli che credono in lui sì fratelli e sorelle viviamo nel senso biblico viviamo continuando ad essere sale di questa terra e a dare sapore a questa società dove purtroppo regna le tenebre e regna il peccato che il signore ci aiuti non solo ad essere stati vivificati ma continuare ad essere vivi vivi in cristo gesù così un giorno quando egli tornerà dal cielo e verrà per rapire la sua chiesa noi saremo tra quelli che se sono viventi saranno trasformati in un batter d'occhio se hanno già lasciato questa terra risusciteranno e con un corpo nuovo glorificato vedranno il signore faccia a faccia che dio ci benedica e ci impegni ancora oggi bacio del signore a tutti quanti voi